Salve a tutti amici artisti, in questo video Daniele mi ha organizzato uno scherzo, io ero di là a guardare la tv, le ho trovato questo file video che poi mi ha fatto vedere e ho organizzato una vista presa per il culo. Ovviamente l'intro è stata realizzata dopo, a voi buona visione. Ciao ragazzi, il video l'ho montato, adesso lo chiamo a Mari sperando che tutto va bene e che non mi scappa, però se la prendete male perché comunque è una cosa bellissima da sentire, tipo che è uno scherzo, poi vediamo fino a quando regge. Mari, vieni un attimo, devo fare una cosa alla monitor. Cosa è successo? Sì, è fatto il monitor nero. Questa è la mia? Cosa è su? Questa è l'improvviso? Cosa? Canale di emergenza automatico della radiotelevisione italiana. Questa non è un'esercitazione. Il centro radarnato. FR-100-6039 ha rilevato un possibile lancio di missili nucleari da parte di Iran e Repubblica Democratica di Corea, diretti verso il nostro paese. Il livello di criticità è estremo. Sento che un attacco nucleare sul suono nazionale è luminente. Alla popolazione delle grandi città è consigliato trovare riparo nelle gallerie metropolitane. Per tutti gli altri è fortemente sconsigliato lasciare le proprie abitazioni. Porti, aeroporti e autostrade sono state chiuse per l'utilizzo del personale minimale. Reti telefoniche, stazioni radio e reti internet non necessarie sono state anche se temporaneamente disattivate. Per comunicare con le autorità della protezione civile è consigliato dotarsi di un apparecchio radio e sintonizzarsi sulla frequenza 770 AM. Ti raccomandiamo di mantenere la massima alerta. Cercare immediatamente un ritardo. E' uno scherzo. Chiedela se l'hai presa male, se l'hai presa male. Sai che guarda qua c'è il video sta qua, spendi il monitor, dice ahhh. Che pensavi quando ti ho fatto vendere questo video? Siamo su mani in acqua. Sì, non si è mai cagato così tanto sotto. Ma l'ho fatto cagare sotto. Che bello. Hai cagato dopo? L'ho fatto cagare sotto. Devi pensare che la cosa bella è che non mi senti di. Io ho avviato il programma, oggi l'ho improvviso, non mi senti. Ma che cazzo stai vedendo il televisione? Vabbè comunque, quanti like per questo video? Per un milione. No, un milione è un po' troppo. Facciamo 100, dai 100 like nuovo prank a Mariano. Presa per il culo a Mariano. No, pesa per il culo a Mariano, va bene. Quindi posso anche staccare, vai. Vai, fai su l'outro, vai. Vai su l'outro. Allora, spero che questa presa per il culo vi sia piaciuta. Lasciate il vostro like e magari un commento. Ah, che bello.